attraverso tullia e gian cerchio ifior attraverso tullia e gian dov tu des domanda però comunque è sempre la spiegazione ma non è che risolva la timidezza scifo ha senza dubbio quello che ti può aiutare a risolverla ripeto è l'insegnamento etico morale e non quello filosofico è il compendio di tutti e due ti può dare una visione tale che ti può aiutare a ragionare meglio sul perché succedono certe cose e quindi a capire dal punto di vista etico morale quella che è la tua vita perché voi state qua per capire voi stessi ma capire voi stessi significa capire quello che fate e come vivete